Bella ragazzi, qui Mr. Hustler Ancora dall'account di Lost Coast Quarto video per oggi Ne è difficile tenere il conto Guarda che tremone! Andiamo! Abbiamo perso il conto Allora sono due MotoGP, un Gran Turismo e questo è il FIFA Primo FIFA, perché voi ne faremo un'altra sete, certo Oggi a sfondare Solo questi mesi riuscivate a tenere la parte Non dire così, non dire così Poi ci attaglieranno Allora, non è di maledì, abbiamo messo la squadra Vai ragazzi, ancora video Ancora video ragazzi, restate sintonizzati Iscrivetevi, dai, non siamo poi così tanto male Sarà una settimana colma di video Dai! Ah, c'è un buffo Buffo, buffo, sei buffo Sei buffo, sei simpa Ossia! Vedi lo scasso di Giovinco! Giovinco! In mezzo! Ho fatto una cacata tecnica! Che ne pensi di questo Sanremo tecnico? Eh, beh, non l'ho visto Però mi dicono dalla regia Che questo Sanremo tecnico Ma che culo di merda! Il rumore è quello dei tasti di Di Mauro, di Come ti chiami? Azzelle! Sì, Azzelle, non lo sappiamo Come ti chiami? Ci conosciamo da tre anni Ah, beh, è Giovinco, è Giovinco Hai Giovinco, è Giovinco Hai Giovinco, è Giovinco Non lo sappiamo come Come ci chiamiamo Guardalo! Guardalo! Perché? Buonissimo Perché ho fatto sta merda? Buffo, buffo Ha già preso un gol Poi prende, ne prende 12 Prende 8 Ma fa schifo oggi la Ju Sì, è solo che il Napoli Non lo so perché Sta sbagatissimo Oh, po' Ancora lui Eh, stiamo dicendo Che stiamo dicendo Più di interrompere Con quel gol fantastico Ah, del Sanremo tecnico Che non è più tecnico Perché non c'è Morandi Che dice che siamo tecnici Il Trimune in piedi Giovinco Sbagliato Scusati, Gianni Gianni, sì Lo salutiamo, Gianni Ti salutiamo Ancora Ma la difesa Ma Cavani C'è Ancora Ottima la difesa Ma Cavani C'è il gol Come ha fatto a sbagliare un gol così Buffo Buffo Si giocano un po' di merda Allora aspetta A MotoGP ti ho stracciato due volte Gran Turismo hai vinto Dovresti vincere Dovresti vincere ora Per pareggiare i conti Ma mi sa che non vince Oh, oh, oh Piano, piano Ehi, piano Alla, su, quallone Bastardo, figlio, figlio, figlio Ma che f***e Ma che f***e Ma che f***e Esult Attenzione Dai Tutto è possibile Tutto è possibile Le esultanze, mi raccomando Fatele sempre Premendo tutti i tasti alla volta Soprattutto nelle vette Perché è un modo figo di esultare Sia per far esultare il giocatore Che per esultare Sia per far rosicare il boss Che vorrà assolutamente Da cuore Che vorrà sicuramente mettere start Subito dopo un gol Invece deve stare a rosicare Mentre voi spaccate il joystick L'usura del joystick Diventerà una cosa normale Beh, cambierete un joystick ogni mese Uh, Bucinic Senta contare le vette Le vette che vi sbaglia Si gira Prova il tunnel Ma non va Riparte il Napoli Riparte il Napoli Riparte il Napoli Mi sento che gomma No Senta contare le vette qui Rimangono in mano così Mentre giocando Bucinic Vede lo scatto Ma il Napoli è molto tecnico oggi Ancora Oh Nel passo di una mano Bante Bande 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 La sfondato La sfondato Mi hai distrutto Sta giocando male Bufano Mi manda sempre pallone Sì 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 oh no 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 sbaglia tutto sbaglia tutto appoggio tutto l'appoggio che ho percorso faiati per giovinco sbagliando in merda scusate ragazzi giovinco si rigira giovinco in mezzo napoli testa napoli tecnico napoli stiamo tecnici nostro merda di uomo già è finita abbiamo messo 4 minuti a tempo buonissimo andiamo andiamo ragazzi andiamo parte giovinco ancora giovinco solo giovinco ho una pista veramente over power oggi mamma mia ancora marchisio si gira la castagna sa stagione che ha chiamato da dire che la castagna sarai al tiro potenza pressione come il gol di totti ma è un termine inventato da te che non esiste sarebbe una sventola ma che cazzo è una sventola è un tira pressione un tira sbordare diciamo Zorro 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 Sebastian Jovin con la formica atomica solo lui lui può fare solo sti gol e inizia ragazzi segna solo di contropiede chiunque di voi voglia giocare con lui online segna solo così e dopo l'offo si crede forte perché ha iniziato a giocare a FIFA dopo di me e mi ha superato nell'online perché mi sfondo solo online e quindi si crede forte però ho confermato con questa partita e altre di oggi che non c'è storia come avevo detto nel video di GT5 Michele perde a FIFA guardalo guardalo solo segnare così lo scatto lo scatto la castagna andiamo ragazzi Napoli tecnico andiamo mi voglio scaldare per COD dai ragazzi maratona oggi maratona PS3 cazzeggio estremo è uno sport estremo state attenti non fatelo a casa una bugia fatelo spaccate potrebbero risentirne i consigli di scuola scuola a scuola solo se ottenete la parte potete spaccarla noi lo stiamo facendo per questo è un giorno di vacanza e vogliamo cercare di ottenere la parte no te la capi offline un poccato che non si vede tutto un saluto anche se c'è stata una piccola lite fra noi ecco pulizio perchè pulizio? perchè mi distrutto stupi mai sia segnale anzic bufo stavo dicendo oggi è il giorno di vacanza quindi possiamo permetterci di spaccarci ma non lo fate durante i giorni sentite Vidal sennò poi diventate tipo Michele scusate Waskos ma che cosa non mi spacco mai? chi diventa un pensionato non fa nessuno sport sta sempre a casa ma si dai finisce di studiare in poco tempo e poi si spacco gol porcaccia mi sei piaccia ma ho me sfondato fa la pina riparte la Juve riparte la Juve con Vidal Vidal vede lo scatto di ma che cazzo fa vede lo scatto di ma che cazzo bam di prima in aria fu no lunga dove fu fu? che cazzo che cazzo giovinco 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 in mezzo non c'è il portiere non c'è il portiere no ahahahah oh merda di uomo apre il gioco per Pirlo merda di una merda Pirlo in mezzo ancora no no non si capisce niente ahahahah ecco ma a parte il controllo vai no a sfondare basta che cazzo tutti i minuti a sfondare ancora ma siamo a ma siamo a siamo a no 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 ma avete no voglio le retrovie le quinte di questo video sono una cosa stupenda dobbiamo adoperarci per fare un video tipo davanti e da dietro ehm ok non è una cosa forte webcam live si dice ahahah webcam live il nostro flashato pensionato come vi ho detto prima seguo gabbo seguo gabbo seguo gabbo si sfonda sempre quando lo piscia quanti piedi dai cazzo di cretto al giorno ma che come dai ma oh dai rivincita rivincita nello stesso video non è mai successo ragazzi non è mai successo no 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 chiudiamo dai rivincita rivincita ragazzi dai vabbè qui 70 minuti di video ma si 85 ancora va bene ragazzi eccoci di nuovo e giochetti attenzione subito ehm la iua parte pa oh trecette intero bus che cosa succede che cosa vuol rigore ma pulso oh pirlo pirlo non ho mai battuto una punizione pirlo tipo si avvicinata di 70 metri apparecchio va bene non si accorso non si accorso attenzione ragazzi pir pirlo pir lo pirlo pirlo pir lo pibi di gucini osserva samuano perchè non è nato io ho fatto io ho dato un vantaggio io ho dato un vantaggio io ho dato un po' se vinco questa c'è l'abbiamo dell'azектор video ancora ancora dvd alberto a parte di nuovo a nessuna parte di ora si è vero se abbiamo fatto i ragazzi come in merda testa giusta ragazzi facciamo per voi dicevare squilla ma non me ne frega niente madonna scopo c'è con check e' una funzione da due portieri buffon check chi cazzo c'è Roberto Villasone e non fare nomi e cognomi chi era? il mister david david lib rizzi non fare nomi e cognomi il mazzo lo salutiamo il nostro rizzo frizzo a un attenzione del suo video per il mio vero fatto il pallone il pallone go no no buon buon ma la sua velocità ma il passaggio oh ma stai vedendo che cosa stavo gasatissimo vuole una bella nello stesso video ancora ancora sto stesso video 80 minuti 2 1 2 2 in mezzo di testa che cosa sbaglia 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 balliamo a 13 minuti 3 pochissimo è pochissimo buone buone c te cazzo di testa vantaggio di un solo gol brutto brutto davvero basta ecco no non sei così lunga no 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 non mi dare ma siamo ancora provano due non va no ma non per il maca sono rapper rapper di strada rapper di strada rapper di strada bambada bellissimo l'intervento tecnico napoli tecnico ricordiamo chiama così lo scatto di giovinco dai giovinco accelera dai metti il turbo il mosso festi in furio se ritorniamo su questo argomento in quale video l'avevamo detto ahahah gtg ahahah ahahah uhp oh ma si una merda di una merda ma sei una mia cannaval ahahah ma che cazzo estremolo forte ma cristiano riparte a Samoa con la sua velocità il mondo è noto il cazzo sono un rap ahahah ahahah chi sei il moreno di amici eh vedi amici devo fare pubblicità vediamo amici di Maria del Filippo ahahah guardatelo mamma sa amsic lo fotte eh ahah ahah cazzo se dice no 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 ahah madonna no bu come a fa oh mi segna Paolo Cannavalcon con la sua testa di merda ahahah 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 che ti ho detto? ahahah ahahah fidelice primo tetto uff attenzione ti concentra Mauva su uscita i miei stratelli si concentra ragazzi innaio offensiva tifate per il napoli tifate per il napoli no 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 gamberini 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 voi cazzo si chiama? gamberini di nome gambo 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 gamberini ahahah in mezzo ancora si gira che cazzo che cazzo non c'è nessuno del napoli e non ci pensa ciao marchi buonissima signora alla palla signor mi sa tanto che la bella non la faremo perchè? PERLO perchè non la faremo? perchè prurani tecnici prurani tecnici prurani tecnici ancora tecnici la parola di oggi è tecnici e' parte buona buonissimo chi era palo canadar scommetto uomo partiti uomo partiti uomo partiti uomo 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 sto sbagliato come a bufaffonto a sbagliare una cosa del genere io lo ripudio dalla squadra dal napoli tecnico queste cose non si possono vedere oi fallaccio ma che cosa vanno detto batte subito o questi riferimenti pornografi uomo mamma non te la cavi offline salutiamola ancora si no ma non ne ha riuscito arriva in mezzo di testa no no politecnico che cazzo oh queste volgarità non si dicono la spigge davanti eh però sono troppe riferimenti pornografi troppi sensi ma passata lo spingiamo eh 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 ma che cazzo com ah ah ma che cazzo com Giovico Giovico si gira Giovico che cazzo sta succedendo che sta succedendo uno contro 3 uno contro 3 uno contro 3 b buco si è andata a doppio e per te mazzolo un'altra difesa si mette un tra difesa ma fuorigioco edison 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 a la mia misa che ci sarà la bella prima o poi il gol oh attenzione no e risotto no merda di la merda vucinici si gira vede no 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 lo chiamano presenza la gente non so nio che parla corta mille minuti di video ma tutti in cui che fuori giochissimo fuori giochissimo e mi sa che non c'era bella mi dispiace per lo scottomigliare cochi perché l'ha fatto no 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 tavola destra tavola tavola no ma ma guarda che culo guarda che con un giocatore te lo ti fai tutta la difesa ma non ha giocato in qualsiasi Enzo Cavani cioè uh chi cazzo è che davide vincisi bucinec la castagna la castagna la castagna di bucinec 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 no vidal 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 una prescherizione che cosa sta facendo quel tribune soffio di nooo non puoi fai il fischiale ma andami ricorici si vai ricorici dai sei una testa di cazzo sei una merda fallo 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 tecnico perchè 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 che scuola vai te liceo liceo tecnico Enrico tecnico oh oh ehhh andiamo andiamo oh fordò che golden ma ma che cazzo non ci faccio neanche più a farlo non ti coglioni 22 minuti di video bello 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 giù madonna è uscita una cosa lunghissima 700 minuti papà ciò metto no 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 è arrivato è arrivato è arrivato mio padre mi devo andare no no sono inconveniente no 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 non citofonare veloce 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 un secondo ragazzi con calma c'è il telefono che da chi va siamo soli chi è? vai continuiamo la partita ma che cazzo ho aperto il figlio per il cagnolo non passa adesso ma no no bastardo figlio di troia se scusate no non volevo dire questo purtroppo era spiazzato cristo santo re maya maya vai vai tecnici tecnici ah eh andiamo 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 che cuore dai ragazzi e te l'hai voluto e è stato bello forse da Liguri ma è arrivata un feture con i miei cani mamma mia non chiamo i cani di Mauro spero che non muovano un lato del cane se non siamo fottuti verrà un video di merda questo qui ragazzi però dai 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 25 minuti natale 24 24 24 che cazzo c'è 24 24 minuti ah 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 mamma quanto vuoi perde? vuoi un altro go giù 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 no poi la più resistenza di questa Juve abituata solo e sempre a fare 90 minuti a rubare e quindi non c'è a fare rubare c'è pure delle casacche le magliette da rubo da rubo da scippo da da no oddio oddio non mi sta parlando le parole sono dislessico 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 o potremmo fare una voglia un piano mi piacerebbe farlo sono un po' lo scorroico di te di te di te il pallone cioè stiamo tecniche notare notare il gol no c'è il difensore rovescia per spazzare il frice in testa a Jomingo che si trova dietro e il pallone fuori dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi siamo tecniche solo lui riesce a fare ripestate la terraria in tre secondi dopo che è la pallone uscita fuori sta in giocata da 70 anni a giocare nessun cambio sono morti sta giù vico che corri come un bambino è un cazzone fuori gioco ah però non c'è un cane nei cori sta solo un buffone e finisce è finita dai 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 cazzo vediamo se si possono fare dei riguri come possono evitare no vabbè dai basta ciao ragazzi in campo cavani ovviamente ciao